Sean si torna a giocare in Italia finalmente tanti giorni per riposarsi per recuperare un po' ma insomma il basket manca Sì, è stato un po' dopo aver giocato, quindi sarà buono di tornare fuori sulla scuola e spero ottenere un vincente e cercare di finire la settimana in modo giusto Mancano ancora otto partite alla fine della regular season ma c'è già un po' di sensazioni di play-off di quest'area che arriva al termine della stagione regolare in cui i risultati contano, compreso quello di giovedì a Cantù Sì, per sicuramente, è la prima volta in 4-5 anni che le ultime 5-6-7 game sono molto importanti, quindi sarà buono per noi, riuscire a fare una buona strada per andare in play-off Ma queste due prossime sono molto grandi, se possiamo vincere due sull'area, abbiamo la prima parte in giro, quindi è molto importante Una partita particolare è quella con Cantù, tanti ex, Marco Nato, Stonruck, Kaukenas, Michelori, Thornton, non giocherà quasi nessuno Sì, è interessante come funziona tutto, ma un po' ragazzo sono incerti, ma sarà divertente, ma siamo arrivati solo per cercare un vincente, è un posto molto difficile da giocare Credi che il primo posto e quindi il fattore campo nel play-off sia fondamentale, sia importante, oppure anche i play-off di Euroleague hanno insegnato che non è poi così decisivo? No, è importante avere, ovviamente se non puoi avere, lo vuoi, se non lo vuoi, non è l'inizio del mondo, e spero che avremo una buona avventura E se finiriamo forte, in questi prossimi 7-8 game, avremo la scuola, e questo è quello che vogliamo da inizio della season Per chiudere, Cantù ha giocato una grande stagione anche in Europa, Milano adesso ha preso un altro giocatore, una squadra molto completa Tante sorprese quest'anno, Pesaro, Venezia, insomma, c'è un'avversaria di riferimento per questo scudetto? No, I think, you know, the league's strong this year, and there's definitely been surprises, but I think people would say, you know, Siena, Milan, and Cantù are the favorites But that being said, you know, you can't relax with anybody, we've lost to, you know, a lot of teams this year that, you know, we might face in the playoffs So, regardless of who you play, you have to be ready and focused to win the series So, guys